Inno diverso, ma stessa fedeltà alla patria. Da presidente georgiano a governatore di una regione ucraina, Michael Sakashvili è il primo ex capo di Stato al mondo a cambiare nazionalità per continuare la sua carriera politica. Da tempo consigliere del presidente ucraino Petro Poroshenko, colui che attaccò l'Ossezia, si ritrova a prendere il controllo della regione di Odessa. E se Muska ironizza parlando di esempio della democrazia in stile Kiev, da Tbilisi i commenti sono più seri. L'ex presidente della Georgia ha semplicemente commesso l'ennesimo atto di tradimento, dice l'attuale capo dello Stato. Sakashvili aveva rinunciato alla carica di vice primo ministro ucraino nel 2014, proprio perché non voleva perdere la cittadinanza georgiana. A spiegare il passo indietro ci provano i suoi fedelissimi rimasti in patria. Secondo un deputato dell'opposizione si tratta di una scelta un po' strana, ma che fa gli interessi dei georgiani.